Si comincia a girare nel mondo dei bambini perché oggi a Pianella apre Baby Chic, quindi mettetevi comodi perché cominciamo a girare. Finalmente con Michela in questa grandissima inaugurazione al centro di Pianella, Baby Chic, devo dire qualcosa che mancava. Io ho cercato di ricreare un ambiente un po' idoneo soprattutto al bambino. Essendo mamma trovo spesso la difficoltà di entrare nei negozi e di trovare un'atmosfera che sia anche piacevole per il bambino che spesso crea problemi proprio per queste mamme che escono per fare un po' di shopping, vogliono distrarsi e invece tornano ancora più stressate di prima. Ho scelto di aprire un outlet, quindi di rivolgermi a tutti coloro che vogliono fare un affare, cioè comprare a prezzi inferiori da quelli del negozio, quindi diciamo circa il 40% in meno e trovare comunque le collezioni attuali dello stesso anno. Ho cercato di mettere una varietà di marchi sia per il genere sportivo che elegante, a partire da Frankie Garage a US Polo, per finire diciamo a Murphy & Night, Pignatelli addirittura, quindi Fan Fan, le linee anche un po' più da cerimonia. C'è un po' di tutto, c'è ancora tanto che deve arrivare. Baby chic veste da 0 a 16 anni. 16 anni, quindi diciamo che anche un po' le mamme e i papà che hanno una fisicità un po' ridotta riescono magari a trovare qualcosina che può andare al loro genio. Bambini ogni tre mesi hanno la necessità di rinnovare il guardaroba, quindi spendere cifre eccessive per poi dopo tre mesi dismettere vestiti nuovi, oggi come oggi comincia a essere veramente difficile. Quindi diciamo che io cerco di dare il meglio a dei prezzi decenti. La nostra attenzione comunque è sempre rivolta ai bambini, anche oggi l'inaugurazione è stata diciamo dedicata a loro che sono i protagonisti, anche se poi in verso fino a 16 anni. Stefano, marito di Michela, cominciamo questa nuova avventura chiamata Baby Chic nel cuore di Pianella. Abbiamo studiato tanto, secondo me bisogna un po' attirare i bambini, un po' di verde, una foresta incantata, ci proviamo. Faccio un in bocca al lupo a lei, saremo comunque vicini alla città di Pianella e invitiamo anche da fuori a venire a cercare un po' di vestiti. Lo slogan è Baby Chic, Precious Shock, quindi... Abbiamo detto tutto. Massimo Simone è l'architetto che ha curato personalmente il look di Baby Chic. Si è voluto creare un ambiente sia armonico e elegante, ma anche un po' di richiamo fantasy. Passaggio per richiamare sempre il discorso della natura fino ad arrivare all'ambiente fantasy. Però poi per il resto ci sono alcuni elementi che sono anche seriosi perché i colori sono tutti i colori delle terre. In più c'è anche un richiamo al logo aziendale che è un cuore e quindi quello è un aspetto un po' più elegante per non dare troppo l'immagine da bambino. Perché poi vengono bambini maschi, femmine, anche che crescono e quindi vogliono qualcosa di più elegante anche. In bocca al lupo da qui in avanti. Siamo in compagnia di alcune amiche di Michela. Le auguro tanta fortuna perché se lo merita. Ha messo tanto impegno in questa attività e veramente è riuscita benissimo perché il negozio è un gioiellino proprio. Quindi in bocca al lupo Michela. In bocca al lupo alla nostra amica Michela. C'è la pagina Facebook che è Baby Chic. Baby Chic è qui a Pianella, mi raccomando Michela vi aspetta. E vi aspettano anche tantissimi ovviamente articoli, le più varie marche, quindi tantissimi brand a vostra disposizione con prezzi davvero competitivi. Quindi in bocca al lupo da parte di Weekend e dintorno. Crepi, vi aspetto tanti.